Buongiorno, bene, abbiamo detto che saremmo andati all'origine delle nevrosi e per andare all'origine delle nevrosi bisogna andare appunto, secondo Freud, in modo particolare nell'infanzia e questo, come dire, ci avvicina anche al tema proprio più propriamente scolastico, anche se si vuole, cioè ci avvicina al mondo quotidiano della nostra vita, da quando si è bambini con tutto lo sviluppo affettivo per cui il bambino va incontro fino a diventare adolescente e poi amore. Bene, all'interno di questo percorso vedremo che ci sono un sacco di ostacoli, ci sono un sacco di trappole, un sacco di trabocchetti nei quali il soggetto può cadere e in virtù di questo sviluppare poi delle nevrosi. Bene, andiamo al principio. A mano a mano appunto che Freud analizza i suoi casi, nota che la grande maggioranza di questi sono causati da traumi, da rimozione di contenuti di natura sessuale che non solo risalgono al passato del paziente ma addirittura all'infanzia. Qui abbiamo messo un'immagine rappresentativa di un'infanzia, per esempio, che può essere un'infanzia abusata, qui la mettiamo così, ovviamente senza mai mettere immagini che possono turbare ma che rappresentano un ricordo, anche qui in questo caso offuscato, come si vede, ancora una volta censurato, non visibile direttamente. Sono infatti le rimozioni avvenute nell'infanzia le prime cause dell'isteria, secondo Freud. La sessualità infantile diventa quindi il pilastro della psicanalisi. È l'aspetto, questo, delle teorie di Freud che più urta la sensibilità. Soprattutto quella del contemporaneo, creando scandale in comprensione. Perché? Perché ovviamente l'idea che possa esserci una sessualità infantile, beh questo già urta, se vogliamo. E ovviamente anche l'idea che, come dire, sia così determinante la vita del fanciullo. Quando ancora Freud scrive queste cose, sì c'è già il movimento delle scuole nuove, della centralità del fanciullo, ma il bambino ancora viene considerato quasi un animaletto prima di diventare uomo. Quindi un'importanza, non solo un'assenza totale dell'impulso sessuale, ma anche un'importanza molto relativa della vita dell'infanzia, per quanto riguarda la società. Ovviamente i grandi pedagogisti avevano già detto molto, ma la società era indietto. E ecco che Freud ritiene proprio di aver scoperto le dinamiche della psiche, che caratterizzano appunto non solo le persone che hanno una patologia, ma in realtà tutti gli esseri umani. E qui ecco che si innesta proprio quel discorso, che dicevamo a monte di questa lezione, dello sviluppo affettivo, dello sviluppo psicosessuale, dell'indirittura. E questo riguarda la normalità, secondo Freud. Cioè questo riguarda ogni individuo. Le fasi dello sviluppo psicosessuale di un bambino, prescindono dal fatto che il bambino abbia o non abbia avuto eventi traumatici. E qui però bisogna fare una precisazione sul termine sessualità. Cioè la sessualità ha un significato molto ampio in Freud. Noi oggi ci parla di sessualità, si pensa immediatamente al sesso, che è un atto ben preciso nella mente della persona. Quindi invece per sessualità bisogna appunto estendere, estendere questo concetto a un generale senso di piacere, a una energia sessuale, che poi Freud chiama libido, che ha diversi elementi e diverse mete. Qui abbiamo messo quest'immagine un po' ambigua, appunto, proprio perché qualcosa di diverso dal semplice sesso. Ma è qualcosa appunto che riguarda diversi aspetti della ricerca, della soddisfazione, del piacere, di certi aspetti, del desiderio. Nei tre saggi sulla sessualità, Freud dice che la sessualità è presente sin dall'inizio nel bambino. E questa, diciamo, è una cosa scandalosa, no? Il famoso perverso polimorfo, il bambino, secondo Freud, come perverso polimorfo, non sono gli angioletti i bambini. Eh no, dice Freud, non è così. È perché voi intendete male il concetto di sessualità. Per come lo intendo io vi dimostrerò che i bambini hanno una sessualità. Sessualità che si sviluppa in cinque distinte fasi. Che ora tratteremo fase orale, fase anale, fase fallica, che vedremo a centrale per lo sviluppo, qui si manifesta il famoso complesso edipico, la fase di latenza e la fase poi genità. Qui abbiamo questa rappresentazione, fase orale, la parte erogena, cioè il soddisfacimento del piacere, la parte sensibile, il piacere alla bocca, fase anale, dove il bambino prova il piacere nella gestione dei suoi sfinteri, così è opportuno chiamarli, fase fallica, dove il bambino incomincia a rendersi conto delle sue caratteristiche, dei suoi genitali, e inizia già a capire quello è l'elemento centrale per la ricerca del piacere, e qui vedremo il complesso edipico, quindi già una sorta di rapporto con l'altro sesso, benché in questo caso si parla appunto di rapporto con i genitori del sesso opposto. Poi c'è una fase di latenza, interessante questa fase di latenza, perché qui la sessualità rimane, diremmo noi inconscia, non centrale, ma pronta a riesplodere successivamente, ed è qui che il bambino sviluppa, per esempio, le sue principali capacità cognitive, quindi questa fase si intreccia benissimo, per esempio con le fasi di sviluppo cognitivo di Piaget, questo è interessante da fare, e poi ecco che si arriva alla fase, come dire, della sessualità matura, nell'adolescenza, la fase genitale effettiva, dove c'è la maturazione sessuale, si cerca appunto il soddisfacimento attraverso la persona dell'altro sesso, e così via dicendo. Quindi, bocca, mano e genitali hanno nel bambino un elemento di sostanziale ricerca del piacere, sono cioè zone erogene, che non svolgono quindi solo funzioni vitali, ma servono a soddisfare la libido, la propria sessualità. Ecco, Freud, un bambino perverso polimorfo. E chiaramente qui il termine pervenzione non va inteso in senso valutativo, non è un giudizio valutativo, ma è una descrizione. Ha rinunciato al fine riproduttivo e persegue il conseguimento del piacere come fine indipendente. Questo è molto interessante. Cioè, finalmente Freud ci libera moralmente, ovviamente questa è quella che è la sua intenzione, dall'idea che la sessualità sia qualche cosa che ha soltanto il fine riproduttivo. Non è così. La sessualità ha come fine il piacere. Ed è sulla base di questo che noi operiamo, la ricerca del piacere, non della riproduzione. E finalmente, ecco, il piacere può essere indipendente dalla riproduzione. Questa è una grande, diciamo, conquista che Freud ha consegnato al Novecento, ovviamente con tutte le problematiche che questo comporta. Connesso alla sessualità infantile c'è anche una delle più note appunto, teorie, quella legata al complesso di Edipo. Chi era questo Edipo? Edipo era un protagonista di una famosa tragedia che di cui appunto ora qui diamo per sommicati gli elementi. Edipo, figlio di Laio, re di Tebe, che il quale Laio che cosa aveva sentito dire? Aveva sentito dire dall'oracolo, dall'oracolo di Edelti che era sottoposto a un maleficio, ovvero se tu Laio avrai un figlio, questo figlio ti ucciderà. Allora, Laio, come dire, siccome gli era venuto questo bambino di nome Edipo, decise di abbandonare Edipo sui monti. Dopo, tra l'altro, avergli perforato un piede, cioè fa di tutto perché questo bambino abbandonato muoia. In realtà cosa succede? Succede che Laio non può sottrarsi al suo destino. Qui sembra quasi, non ci si può sottrarre al proprio destino, sembra quasi di vedere la storia di Sesto raccontata da Leibniz, ma adesso lasciamo perdere, dove c'è poco da fare, non ci si sottrae al proprio destino anche quando ti viene detto che cosa ti accadrà. Bene, che cosa succede? Succede che il figlio Edipo non muore, viene adottato dal re Polibio che non aveva figli Edipo cresce, poi raggiunta la maggiore età Edipo turbato dal fatto di essere chiamato bastardo da un ex compagno di giochi, lascia il regno di Polibio e va a consultare l'oracolo di Delphi per ottenere risposte. Qui abbiamo l'immagine dell'oracolo di Delphi, bellissima struttura visibile ancora oggi. L'oracolo dice guarda il tuo destino è quello di uccidere il padre e sposare tua madre. Questo rimane scoinvolto da questa profezia e ora si rimette in viaggio e va via sempre più lontano cercando di sfuggire al suo destino credendo ovviamente che quando l'oracolo diceva questo si riferisse a Polibio e alla moglie di Polibio non pensa che si possa riferire ad altri soggetti. Ecco qui come dire è l'elemento cruciale e allora va vaga vaga arriva un crocevia a questo crocevia c'è un altro carro è per l'appunto il carro di Laio e il carro di Laio ma Edipo non sa di essere in realtà il figlio di Laio c'è un diverbio con l'araldo e tutto il resto quindi intraprendono un combattimento e Edipo presso da furia ceca uccide Laio e la rata quindi uccide suo padre ma non lo sa e la rata che lo accompagna questa vi rimando alla lezione su freghe se da distinzione tra senso e riferimento vedrete che non è così semplice anche semanticamente affrontare questa questione Edipo sa di aver ucciso l'uomo sul carro ma l'uomo sul carro semanticamente per Edipo non è il suo padre perché non lo sa ok e quindi anche se c'è un unico ente il significato non è così chiaro bene quindi si compie la prima parte della profezia Edipo continua dunque il suo viaggio fino a Tebe inaspettatamente riesce a sconfiggere anche la sfinge che tiene soggiogata la città rispondendo un indovinello il casco Edipo e la sfinge gli abitanti di Tebe sono così felici che cosa fanno ma non possono far altro il re non ce l'hanno più che dargli in moglie la regina la regina di Tebe ma per l'appunto la regina di Tebe è la moglie di Edipo ecco ecco che si avvera anche la seconda parte della come dire della profezia e qui cosa succede succede che arriva una terribile pestilenza a Tebe ricordiamo che fino a ora Edipo è in miano di ciò che ha fatto a questo punto Edipo vista questa grande pestilenza torna nuovamente da un indovino e gli diceva guarda tu non l'hai capito ma tu sul carro l'uomo che è ucciso che era sul carro era la tua padre e di conseguenza la regina che hai sposato è tua madre perché appunto l'uomo sul carro era il re di Tebe e la regina che tu hai sposato era sua moglie cioè tua madre a questo punto figlio Edipo quasi impazzisce perché come dire si rende conto appunto che Giocasta è sua madre per punizione per non aver visto questo sacrilegio che lui ha compiuto ecco che Edipo si acceca questa immagine della tragedia dove Edipo rete questa è la tragedia greca si cava si cava gli occhi per non aver visto questa cosa questa è una triste storia ovviamente Giocasta si suicida e e via così Edipo muore diciamo poi in miseria cieco bene quindi che cos'è posta la storia di Edipo che cos'è nella psicanalisi il complesso edipico vediamo il complesso edipico è un attaccamento libidico verso il genitore del sesso opposto c'è un atteggiamento ambivalente positive affettuosità comportamenti negativi di ostilità e di gelosia verso il genitore dello stesso sesso quindi da un lato si ama il genitore figlio la madre la figlia il padre e dall'altro si ha invece un atteggiamento ambivalente nei confronti del genitore dello stesso sesso quindi il bambino verso il padre prova sia affettuosità ma anche ostilità e gelosia e così la bambina verso la madre questo abbiamo detto questa fase si sviluppa tra i 3 e i 5 anni vediamo il bambino tipicamente innamorato della madre qui si parla prevalentemente al maschile nell'analisi freudiana poi sono gli studi successivi dei prosegutori a partire dalla figlia di Freud ma anche di Jung a introdurre poi il complesso di Elettra ebbene qui abbiamo appunto lo sviluppo della fase Fallig questa risoluzione è fondamentale per la costruzione della personalità del bambino cioè il bambino al fine di ottenere al fine di raggiungere la maturità personale deve oltrepassare questo complesso cioè deve risolvere al suo interno qui non vi leggo adesso questa questa come dire questa citazione di Freud vi lascio la lettura individuale Freud mostra l'evidenza di questo complesso nel bambino e andiamo invece appunto alla sua risoluzione il complesso edipico fa sì che il bambino quindi abbia amore verso il genitore del senso opposto e quindi l'altro è un rivale da superare questo altro che poi rappresenta in un certo senso tutte le convenzioni le leggi le norme alle quali il bambino deve invece poi sottostare vorrebbe eliminare anche uccidere il il genitore del e qui vediamo un'immagine scherzosa in questo caso bambino che abbraccia la mamma e scalcia via con questo piedaccio il papà ovviamente un'immagine scherzosa ma rende bene bene il bambino si rende presto conto che il genitore rivale non può essere eliminato e diciamo nella prassi normale poi alla fine si avviene che il bambino si immedesima nel genitore di riferimento quindi il bambino a questo punto col padre la bambina con la madre e questa diciamo operazione di diremmo noi di identificazione fa sì che si completi la formazione all'interno del soggetto della personalità vedremo poi in particolar modo del superio del superio che rappresenta proprio l'insieme delle norme a cui l'individuo poi si deve adeguare e le norme alle quali l'individuo poi deve fare riferimento bene affrontate come dire le fasi di sviluppo psicosessuale della personalità della scusate psicosessuale del bambino andremo adesso ad affrontare il tema in una lezione specifica della teoria della mente e della personalità con le famose topiche freudiane quindi ci lasciamo su queste fasi di sviluppo della sessualità abbiamo già detto come dire le caratteristiche delle zone erogene e quanto altro abbiamo visto in modo diciamo un pochino più preciso questa fase fallica questa fase edipica che cosa rappresenta questo complesso edipico cioè il superamento di questo desiderio incestuoso e che questo superamento è fondamentale perché serve appunto per formare una delle componenti essenziali della personalità che è il superiore cioè la componente morale anche normativa dei venditi bene ci lasciamo appunto per questa lezione e vediamo a breve la prossima grazie a tutti